Ha preso il via ieri la fase degli interrogatori successivi all'operazione Gota 6. Intre non hanno risposto davanti al GIP. Antonino Calderone, classe 88, Salvatore Chiofalo e Domenico Chiofalo si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Ha respinto invece tutte le accuse Pietro Nicola Mazzagatti, difeso dall'avvocato Tino Celi. Questo in sintesi l'esito della prima tranche di interrogatori tenutasi davanti al giudice per le indagini preliminari Giovanni De Marco e ai sostituti procuratori della DDA Vito Di Giorgio e Angelo Cavallo. La serie di interrogatori proseguirà nella giornata di oggi e nei prossimi giorni. Intanto l'eco dell'operazione non si spegne, specialmente per quanto la stessa ha permesso di ricostruire in merito ai fatti di sangue più cruenti che hanno caratterizzato la vita del comprensorio barcellonese dal 1993 a oggi. Tra questi l'omicidio del giornalista Beppe Alfano che il comandante De Rosse dei Carabinieri, il generale Giuseppe Governale, ha definito un martire di questa terra. Un omicidio sul quale il procuratore capo Guido Loforte sostiene che bisogna fare ulteriore luce soprattutto sul fronte degli esecutori. Quel che è certo ha sostenuto il magistrato durante la conferenza stampa tenutasi mercoledì scorso al comando provinciale dei Carabinieri è che il cronista del quotidiano alla Sicilia disturbava gli interessi della mafia. Gota 6 ha tuttavia permesso di aprire uno spiraglio investigativo anche sui fatti di sangue più recenti che hanno suscitato la reazione dell'opinione pubblica barcellonese. Il riferimento è all'omicidio di Giovanni Sgro, il 23enne freddato in un salone da barba il primo dicembre 2012 perché secondo gli inquirenti sospettato dalla banda di Pozzo di Gotto di avere cercato di far fuori Domenico Chiofalo.